Io avevo un cane, Bubu. Sì, lo so, un nome un po' scontato per un cane. Comunque mi occupavo di lui sempre nel mio tempo libero. Tutti i giorni gli davo da mangiare le sue crocchette. E lui era buono, era obbediente e faceva tutto quello che volevo. Ma quando è successo il casino e i soldi sono finiti, ho cominciato a dargli da mangiare i miei avanzi. Che dovevo fare? Poi neanche più quelli perché avevo fame io. Beh, non l'ha presa bene, no? È diventato irritabile, mi ringhiava, vedeva che io mangiavo e lui no. E un giorno mi addirittura morso e poi è scappato, Bubu, il mio ex cane! Ehi! Ho, ho, ho! La finanza! Anch'io ne so un po' di finanza. È come con Bubu. Quando tutto andava bene, vi mangiavate la pizza e ci lasciavate il cornicione. Ed era ok. Non mi sto lamentando, no? Avevamo fiducia e aspettavamo il cornicione. Ma quando c'era da salvarsi il culo, avete cominciato a mangiarvi tutta la pizza, vero? Fino all'ultimo boccone! Io avrei dovuto fracassarli a calci e senza guardarli! Ma adesso l'ho capito, sai? Oh sì! E non durerà ancora per molto, no? Noi clown, nani, puttane, ballerine andremo a scovarvi! Uno ad uno!